oggi stava per partire uno sfogo in diretta raga uno sfogo è stata una partita in cui veramente in diretta ho fatto il macello ricordo trovate il link della live reaction bloccato nel primo commento e nelle schede a fine video quindi andate a recuperare la live reaction perché oggi è successo di tutto il live quindi recuperate la live oggi ho rischiato per distruggere qualcosa veramente oggi abbiamo abbiamo rischiato il fondo stavamo perdendo con la cremonese ma finalmente siamo riusciti a rimontarla la roma vince 2 a 1 e rimonta con la cremonese la cremonese che è quinta in serie b una squadra che non si sapeva neanche perché si è ritrovata a giocasse un ottavo di finale eppure ce la siamo ritrovata abbiamo faticato abbiamo rischiato di no di stavamo a perdere giustamente la roma era partita malissimo poi finalmente di bala entra e cambia situazione con di bala smoon la roma cambia completamente il modo di giocare prima lukaku e poi di bala e la roma la ribalta e vince 2 a 1 la roma vola i quarti di finale contro la razio la decide ragazzi big rom romelu lukaku e poi ragazzi il grande paulino 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 la decide paulino ragazzi freddo e graciale dal dischetto non sbaglia e paulino ci porta ai quarti dai e di bala ciao ragazzi e bentorni in questo video qui è già penso oggi siamo qui ragazzi in un nuovo video soprattutto qui nel già per commentare il post partita di roma cremonese 2 a 1 oggi veramente io non ci arrivo a fin anno io non ci arrivo io non ci arrivo non ci arrivo non so come chiamarlo sto video ma è stata una partita infarto ragazzi a rischio infarto non so se essere arrabbiato o godere non lo so non godo no non sto godendo se è quello che vi è stata domanda è stata solamente se riprende fiato perché dopo la partita a roma c'ho il fiatone è assurdo è assurdo però sono contento la roma nel secondo tempo ha tirato fuori le unghie ci ha provato a ribaltare c'è riuscita tutto grazie a paulino nostro meno male che esiste lui e che hazmoon è un giocatore che purtroppo parte per la coppa d'ase ma un giocatore troppo importante per la roma mi raccomando un mi piace per sostenere questo video un commento di una vostra qua sotto con i commenti che cosa ne pensate ovviamente vi ricordo di recuperare live reaction trovate qua sotto nella scheda a fine video recuperate gli ultimi video più tardi usciranno anche le mie javas pagelle nel post della community quindi non ve le perdete andate poi a commentare le pagelle che usciranno dopo nel post farò un post sulla community come sempre analizziamo velocemente la partita vi dico semplicemente alcuni punti il primo tempo disastroso perché la roma lukaku inesistente proprio inesistente anche oggi una partita brutta di lukaku poi diciamo nella fase finale un post è ripreso ma diciamo per lunghi tratti per per buon 60 minuti di partita inesistente è stato di lukaku giusto ultimi 25 minuti si è un po ripreso da quando è entrato di bala in campo ha iniziato un pochettino a mettere la sua fisicità in mezzo si è fatto proprio pronto sul pallone di hazmoon e ci ha appunto portato in vantaggio ci ha regalato il gol del pareggio ma per il resto non è che abbia fatto chissà quanto lukaku parte meglio ovviamente la cremonese dopo 37 minuti passa in vantaggio come al solito errore difensivo purtroppo cristante fio mio so che non sei non è colpa tua la roma non compra un cavolo difensore pinto se trasse una svegliata a comprare un cavolo difensore perché dica è partito per la coppa rafrica non ci abbiamo difensori l'avete visto questa sera la roma con cristante difensore centrale non può giocare non è colpa di cristante è colpa di chi non compra i giocatori perché dobbiamo stare ci abbiamo tre difensori con ci abbiamo praticamente noi abbiamo tre difensori per tre posti se si rompe uno deve giocare cristante difensore mondica è partito per la cosa hanno giocato selic centro-destra giorente centro-sinistra che tra l'altro è destro ha giocato a sinistra e centrale c'era c'era cristante cioè non c'era un difensore che sta posizionato bene oggi infatti giorente e cristante sono stati secondo me peggiori in campo disastrosi in fase difensiva il solito inesistente paretes pure oggi e pellegrini altri due giocatori inesistente in mezzo al campo per il resto un po la roma soprattutto i giocatori sono tra i della panchina sono entrati bene bene i cambi sono me quelli che sono tra i della panchina hanno fatto la differenza proprio il resto ci sono tanti e tanti errori e tanti giocatori che e alcuni giocatori non voglio vedere tipo selic basta selic onestamente soprattutto messo da difensore centrale non si può vedere cioè regà lo dico proprio da 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 una persona umile non si può vedere selic difensore centrale così come cristante dobbiamo assolutamente comprare un difensore poi finisce così con la cremonese comunque regà parliamoci chiaro che la cremonese ha fatto un tiro nello specchio e basta lì giorente si perde praticamente si perde non mi ricordo chi e fanno un sombrero a iorente non mi ricordo chi ha fatto un sombrero cristante che arriva giustamente in ritardo perché lì se l'ha perso iorente cristante che arriva in ritardo sa ciò che segna questo gol un po fortunoso ma comunque con con intelligenza si mette col corpo davanti e segna il gol lì svilare forse poteva far di meglio in realtà non è colpa tanto di svilare però diciamo che è rimasto un po spiazzato svilare il gol del dell'1 a 0 della cremonese poi nel secondo tempo la roma si è ripresa fammi vedere a che minuto di bala è entrato subito me lo ricordo a zmun quando è entrato di bala di bala è entrato al a praticamente appena iniziato il secondo tempo poi al 67esimo è entrato anche da zmun e spinazzola che sono entrati tutti quanti bene in partita perché pure spinazzola si è guadagnato il calcio di rigore mo ne parliamo lucavula timbra al 77esimo pallone praticamente appena è entrato dopo dieci minuti che è in campo a zmun serve questo pallone per lucavo il gol dell'1 a 1 si è fatto trovare pronto lucavo da lì non ha sbagliato e poi e poi ragazzi c'è da segnalare il pa un palo da parte della roma una traversa di pellegrini nel primo tempo me la so scordata una traversa che ancora sta a trema quella traversa linea nel primo tempo con una delle delle poche occasioni che c'è avuto la roma nel primo tempo pellegrini che ha preso la traversa linea e poi poi nel secondo tempo c'è da segnalare il pallo di esciarawi e poi appunto proprio spinazzola entra in campo sgasata sulla fascia viene falciato da da non mi ricordo chi era da sernicola calcio di rigore dal dischetto di bala freddo all 85esimo spiazza diciamo no spiazza il portiere non c'è l'ha messa all'angolino dove non ci può arrivare e il gol del 2 a 1 e finisce così la roma che vince e vola i quarti contro la lazio fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento grazie di bala perché come al solito tu sei il nostro faro e spero che rimanga a roma il più a lungo possibile di bala anche con tutti i problemi dei problemi fisici che ha se noi riusciamo a tenerlo e a comprare un'alternativa quando lui c'è perché sa zmoon può essere una buona alternativa di bala però di bala deve rimanere a roma è il nostro faro con o se con o senza morigno ma di bala deve rimanere io prego prego dio che di bala dica sempre di sì al rinnovo di contratto perché comunque è un giocatore troppo importante per questa roma niente iscrivete al canale sempre comunque forza roma grazie a tutti e alla prossima ciao ragazzi ciao bella